ciao a tutti cari amici e bentornati con un nuovo appuntamento della rubrica i cocktail di ross il cocktail che vi presentiamo oggi è il cosmopolitan è un cocktail nato in america può essere bevuto come aperitivo o dopo cena questo cocktail si caratterizza per il suo colore e il suo profumo particolare va preparato direttamente nel shaker boston e va servito in una coppa martini gli ingredienti che utilizziamo per questo cocktail sono vodka triple sec succo di gran perry e succo di lime infine per guarnire una fetta di lime iniziamo con il raffreddamento appunto del bicchiere ghiaccio nel nostro posto e iniziamo aggiungendo 4 cl di vodka 3 cl di triple sec 2 cl di sciroppo di gran perry 1,5 cl di succo di lime shakeriamo tutti gli ingredienti con l'aiuto dello strainer filziamo il cocktail infine decoriamo con una fetta di lime e il nostro cosmopolitan è pronto grazie a tutti Grazie a tutti.